Sebastian, come va con la Ferrari? Dicono che tu sia nervoso, insoddisfatto, come stai? Bene, grazie, molto bene. Nessun problema? Penso di no, penso che i risultati non sono stati molto bene, ma nella nostra squadra lavoriamo insieme e tutto bene. Allora abbiamo cominciato in italiano, proviamo a chiudere in italiano dicendo qualcosa ai tifosi della Ferrari che in Italia li stanno ascoltando. Abbiamo tanto lavoro a fare, ma sono sicuro che un giorno arriviamo in testa e poi sono felice.